Dalle Alli, Hunter, Hunter, sinistro su assist di Dalle Alli, finalmente 2 a 0, il nostro Alex quando la partita si stava veramente facendo complicata, lui ha questo colpo di genio di girarsi così e andarla a piantare nel culo E-Gay Sports, it's in the gay Sinceramente non mi posso lamentare di aver scelto questo compagno, a dire la verità Andiamo avanti, ci sarà una scenetta forse? Sì, esatto Ok, Atletico Madrid, Villareal E partiremo dalla panchina, perché ovviamente entriamo dall'infortunio E tra l'altro ragazzi, Villareal è la squadra contro cui abbiamo esordito, proprio con questa maglia Il Real Madrid ragazzi è a 66, è a più 9 e non è così irraggiungibile Noi ci si prova, tanto comunque sia l'importante è la qualificazione in Champions League Comunque sia, Alli sta dietro di noi e noi in coppia con Griezmann Vamos Ah, ci fa parte titolare? Ah, ok Oh, eccolo il nostro bandino Sì, partiamo titolari, vamos Minchia com'è veloce il gioco Carrasco Griezmann No raga C'avevo l'urlo in gola Va bene, va bene, va bene, va bene Hunter, Saul 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 Niggas Apre le marcature L'Atletico E tra l'altro, ma che ci penso, direi in camera, c'ho proprio questa maglietta qua dell'Atletico Non so, mi è mai nata in testa questa cosa, ce l'ho, ce l'ho Assist di Alex, non è per Alli, ma va bene, dai Hunter, Saul Saul, lotta Non è fallo Uh, al volo Cazzo è successo, raga Una gangbang in area Hunter vede Griezmann Eeeh, arbitro Arbitro Semedo Come se è violento Giallino No, mi dispiace, signor Antoine Qua c'è qualcuno Che ne ha bisogno più di te Ed eccolo qua Trasformato dal nostro Alex Afro 2 a 0 Tutto Infinitamente perfetto, signori Alex torna al gol Dopo il suo infortunio Qua, portiere Totalmente immobile Ciao Punizioncina Ci va Griezmann Potrebbe andarci anche Hunter Eeeh, 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 eeeh Brutta non era Forse un po' troppo debole Hunter Alli Carrasco Sono cercando di fargli segnare Ah, sto cercando di fargli segnare Alli e Hunter insieme Ma va bene, va bene, dai Ci portiamo a casa un altro assist Carrasco 3 a 0, ragazzi Partito è che non mi sto neanche più impegnando Sinceramente Una semplicità veramente Imbarazzante E si va con 10 in pagella Vamos Griezmann Griezmann Hunter Di testa Con L2 Con patate 4 a 0 Doppietta E partita Cioè, già era chiusa da mo Figuriamoci adesso Proprio chiusissima Esulta il Wanda Esultiamo noi Però non c'è comunicazione Tra delle ali Mannaggia Godin Ha preso il pallone Arbitro Ha preso il pallone Non l'ha buttato fuori Sì, l'ha buttato fuori Mi stavo illudendo No Oddio Finisce qua 4 a 0 In 10 uomini E più che altro Ragazzi L'espulsione Non pesa tanto Su questa partita Ma pesa sulla prossima Che non so chi avremo Ma mi sto veramente Cacando addosso E qua Vi farei notare Che Hunter È stato partecipe In tutti I gol 2 assist 2 assist e 2 reti Chiari fuori Di appare in merito In merito col Barcellona E tra l'altro La Madrid ha perso Quindi siamo a meno 6 Stiamo arrivando Allora In questo capitolo Possiamo vincere sia il campionato Che la coppa E ripeto Possiamo Poi se succederà No non lo so In Coppa del Re Comunque ragazzi Siamo in semifinale Con Valencia E la vincente Del classico Sarà Una finalista Leganes Atletico Madrid Per fortuna Godin salta La partita contro Il Leganes Ma che fighetta Sta maglia gialla Vamos Allo stadio 23 Magi Chris Mann Goke Arbitro Cioè Non è né calcio d'angolo Né calcio di rigore Chris Mann Allì Dele Allì Oh Liberazione Signori Godin Dele Allì La sblocca Lui Non è su assist Di Hunter Ma va bene A volte Istinto di sopravvivenza Signori Dele Allì Hunter Hunter Sinistro Su assist Di Dele Allì Finalmente 2 a 0 Il nostro Alex Quando la partita Si stava veramente Facendo complicata Lui Ha questo Colpo di genio Di girarsi così E andarlo a piantare Nel culo Chris Mann Chris Mann Udina Gir Su assist Di Alex Bandierina Signori Antoine Griezmann Neanche lui Manca mai L'appuntamento Con la rete 3 a 0 Dele Hunter Hunter Serantes Hunter dentro Dele Allì Su assist Di Alex Si scambiano Tra le ruote Tra le ruote Invece È stato Veramente Annichilito Alex Oggi Sei stato Imbarcabile Cos'è Ma va First time Finché si vince Non importa chi segna O chi crea l'occasione O 84 Dele Alli E 78 Hunter Ma siamo 81 Però devi aggiornare il sistema operativo Mi sa Sempre a meno 6 dal Real Madrid Il Barcellona Ha una partita a meno Ed è a pari nostro Quindi prima mi ero palesemente sbagliato Ma ce la possiamo E ce la dobbiamo fare Bellino però il centro di allenamento È totalmente diverso Rispetto a quelli visti Agilità Signore 79 Dripping 81 Era un esercizio veramente di merda Quindi li ho tagliati Vi avverto già Atletico Madrid Las Palmas Primo aprile 2018 Stiamo giocando veramente ragazzi Contro I morti in campo Solito posto Solita ora Solita posizione Vamos Il Real ragazzi Ha pareggiato Una vittoria potrebbe portarci addirittura a meno 4 Uh Uh Hunter No Ragazzi Perché c'è l'inizio partita Ogni partita Il tiro di merda classico Oh ma è incredibile Dalle Alli Dentro Hunter 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 Dei buttarla in porta Con l'assist di Dele 1-0 Apre le marcature il signor Alex Niente zoom sull'esultanza Solito glitch 1-0 Uh Griezmann sublime Per Carrà Vaffanculo Jonathan Viera Cosa Cioè Al primo tiro Metto Va bene Va bene Va bene Ma poi perché c'è Moia in porta Ok adesso non me ne frega più un cazzo Chi fa gol Fa gol Basta Griezmann entro Dalle Alli Dalle Alli Dalle Alli Hunter Fuori Cosa Ma siamo seri ragazzi Cioè seriamente È il secondo gol È un metodo alla porta Che mi fa sbagliare Come Signor FIFA Come Devo fare gol Buono C'hanno Kiki Zola In porta Ma c'hanno il portiere dello Spezia In serie B No Regà Io non Non tutto rispetto Ma non Non posso Con l'Atletico Madrid Non vincere contro Kiki Zola Dai Buono Dalle Alli Buono Una sega Sono in 45 In difesa Buono Carrasco La sbaglia Per forza Signori Per forza Per forza Hunter Eh E mo cosa faccio Mo cosa faccio Oh Rigore Buono Chiappalo Kiki Zola Andiamo a vincere Madonna Che sudata Contro La Spalmas Ragazzi In zona Di retrocessione Stanno sti qua Meno male C'è il rigorello Lungo Moia Arbitro Fischia Oh Doppio Hunter Spazza via i fantasmi Ragazzi Beh Si è ovvio Perché generalmente L'uomo partita È il miglior giocatore Della gara Ed ecco Allora ormai siamo ad aprile Maniche corte Dai E guardate un po' Signori A partite pari Con il real Siamo a meno 4 Dalla vetta Ce la stiamo studiando Ce la stiamo anche direi Meritatamente guadagnando Oh scenetta Eh rapporto con la lista Crescendo Piano piano Signori Sperma tutto un po' Troppo facile Vero Dobbiamo rimanere concentrati Atlético Madrid Alla vessa Vamos Oh si rivede Oblak Incredibile Io vi vorrei far leggere Questo hashtag Atmala Atmala Pazzo Madrid Atmala Sempre vanda Metropolitano Sempre pomeriggio 32esima giornata Di campionato Coche Paceco Eh c'è pochi varchi Signori Uh cosa Si è inventato Hunter Per Griezmann Paceco Ragazzi Le sappia tutte Dele Bella Hunter No ragazzi Sto paceco Ha rotto i coglioni Però Uh Come l'ha messa Mamma mia Pensavo Avete sbagliato Un'altra volta Vabbè Assist di Alex Fotte sega Griezmann Apre le marcature Oh Vi sopportere fermo Una palla che Dall'illusionotti Che sembrava Andasse fuori Ragazzi Lala Vescia Duarte In difesa Non ce la faccio Troppi ricordi Signori Hunter Allì 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 Mamma mia Come se li è Bevuti E festeggia Con i tuoi tifosi E non mi fai lo zoom Fanculo Ok Dale Hunter Blu Era tutto perfetto Grande Carrasco Con quanta cazzimma Hunter Griezmann Ma come Ma come Come gliel'ha messa Ma fate abbracciare Testa di cazzo Ah vabbè Niente Esultanza di Griezmann 3 a 0 Mamma mia Che recupero di Carrasco Che cross di Hunter Proprio di prima E che colpo di testa Tutto perfetto Calcio e champagne Signori Dalle Alli Ghiottissimo No Raga Paceco Ha rotto i coglioni Però Augusto Verso Alli Paceco Ragazzi Cioè Sto portiere Ha parato Tutto il parabile Sta partita Oh Attenzione Qua è angolo No Finisce qua Gol di Alli E doppietta di Griezmann Se è col nostro Alex Che comunque serve 2 assist Anzi 3 assist Mi correggo Un tatuaggio colorato Di rosa inglese Dietro il collo Che cagata Di davanti Lo voglio Lo voglio Lo voglio Oh e raga E noi non si riesce A colmare quel gap lì Mamma mia Che rabbia Oddio no Quanto odio Difesa avanzata raga Cioè che poi La fanno fare Da Hunter Che è un attaccante Mi viene da ridere Chi cazzo è Zaka Simone Né Zaka Ma perché Alli è portiere Che senso C'ha Forza 32 Importante Vabbè Marcatura 41 Chi se ne frega Contrazzo 61 potrebbe essere utile Soprattutto in fase Di pressing E niente Sti stronti Del Real Madrid Raga Continuano a vincere Che rabbia La prossima trasferta Quella del 16 Aprile 2018 È contro Il Levante Con lo stadio Classico Magliettina gialla E via Griezmann Hunter L'avevo provato Il palonetto Ma sti cazzi Hunter dentro Cochie Fuori gioco No sono un coglione Sono un coglione Veramente ragazzi Cochie Hunter Hunter Guarda No 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 Puzza sta parata Puzza sta parata Eh Sì Vabbè Le para tutte Raga Gli sto appoggiando Veramente Il cazzo in testa Sto qua Carrasco A giro Mamma mia Carrasco Silenzia Tutta La tribuna Del Levante Con questo gol Signori Cioè ma questo è da vedere E rivedere Proprio Utile a gira Lanzini E qua il portiere Che stava parando Di tutto Eh S'attacca al cazzo Perché c'è proprio detto In maniera A meno fine possibile Qua Guardi E fine No 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 Gol Non lo fai Mi spiace Ragazzi Gol Primo tiro Gol Non lo fai Mi spiace Ragazzi Primo tiro Ragazzi Gol Non lo fai Mi spiace Ragazzi Però Ripeto Se non fossi chiaro Primo tiro Quando c'è Moya Ragazzi È automatico Che si prenda gol È incredibile Poi c'è sto real De merda Che non perde mai Non perde mai Il real Mi dicono Vinci il campionato Come cazzo Lo vinco Il campionato Raga Dai Ma come Come lo lasciano andare Gol È finita ragazzi È fin No vabbè Ciolo Però spinge Spinge in avanti Sta squadra Ciolo Spinge in avanti Sta squadra Eh Ovviamente Gabby Non lo vince Il contrasto Ragazzi Che merda Guardate qua Che merda Com'è schierata La difesa Me l'ha data Indietro Apposta No Raga Me l'ha data Indietro Apposta Doveva andare Davanti Quella palla No ragazzi Io non c'ho parole Io non c'ho parole Cioè Non è possibile Che come prendi Un gol Metano il pullman Non esiste Ragazzi Guardate se mi tocca Perdere un campionato Per via del pullman Di merda Io sempre L'ho avuto a schifo Sto gioco di merda E non smetterò Mai Giuro Eh Sì Rapporto Rapporto Di sto cazzo Rapporto Di sto cazzo Lo script Di merda Lo script Del cazzo Ma vaffanculo Saltiamo Sta cazzin Del cazzo Guarda Credi essere Più veloce di me Ti piacerebbe Sì sono più veloce di te Perché sono una punta Imbecille Ma che cazzo Devi essere Più veloce No Budello Di tu Ma bastarda Dunque ho vinto Io Vaffanculo Abbiamo un'acconciatura Nuova Gli spirali Mettiamola Dai Il Real Ha perso Potremmo portarci A meno 3 E guardate Un po' Con la vittoria Di prima Potevamo essere A meno 1 E invece no Bisogna continuare A subire Le ingiustizie Di sto gioco Di merda Real Betis Altra inculata Saul Hunter Spacca la porta Brutta merda Vai a fare esultanza Con i nuovi capelli Dai Mamma mia Che orribile Che sei Stavi meglio Afro Cazzo Uh guardado Ah c'è Oblak Allora Questa partita La vinciamo Carrasco Delle Alli Palo Va bene Va bene Griezmann Griezmann Eh 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 Quando arriva il momento Di tirare Ma Griezmann Savic Adan Eh 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 Non si può Hunter Griezmann Ancora sto cazzo Di Adan ragazzi Quattro partite consecutive I portieri Hanno fatto Di tutto È incredibile È quattro partite Che giochiamo Contro i portieri Contro il pullman E contro i piedi Fine Saul Dove mi dare Prima Hunter Quando ho schiacciato Picks Hunter Carrasco Miss Mann Eh mi tocca Fare delle azioni così Perché se no Ciao proprio Che palle Dai 2 a 0 Basta Con questi lanci Lunghi Basta Rotti I coglioni Hai rotto I coglioni E contro Piede Lanci lunghi E il pullman Basta Non è neanche Rosso Ti sta bene Finisce 2 a 0 Per niente soddisfatto Di questa partita Ragazzi Cioè io sto veramente Faticando un casino Contro squadre Che Andrebbero battute 5-6 a 0 Adesso tocca la coppa Contro Valencia Partita secca ragazzi Se si perde La abbiamo nel culo